Il russamento notturno fino alle sindrome delle apnee ostruttive del sonno rappresenta una vera emergenza sociale di questi ultimi anni. Quando il nostro partner russa durante la notte troppo spesso questa condizione viene banalizzata, trivializzata con delle battute, cambi distanza piuttosto che mangiare più leggero o bere meno alcolici. In realtà questa condizione del russamento notturno è una spia che si accende, un alert che si accende sul nostro computer per cui quando questo avviene è necessario un approccio specialistico otorino-lingoiatrico. Perché questo è necessario? Nel corso degli episodi di russamento può succedere che l'organismo vada incontro a una riduzione dell'ossigenazione nel proprio sangue. In queste fasi molto pericolosi sono i danni cardiovascolari e ancora una volta i danni cerebrali. Quindi il russamento notturno con le apnee, il respiro rumoroso, le interruzioni della corretta dinamica respiratoria durante il sonno, se osservate o se percepite dal paziente stesso al momento del risveglio del sonno, devono necessariamente indurci a eseguire una visita specialistica otorino-lingoiatrica. Nel corso della visita sarà molto semplice con le tecniche endoscopiche, come detto nelle precedenti clip, identificare quali sono i siti ostruttivi, le zone da trattare, causa di questo russamento. Il russamento viene anche indagato con un esame che è la polisonnografia, che è un pochino come l'elettrocardiogramma per il cardiologo, un esame non invasivo, molto semplice, in cui siamo in grado di monitorare il sonno e analizzare se il paziente russa, se questo russamento è un fattore di rischio per la salute, ma soprattutto quanto russa, per poter identificare anche una scala di rischio. Se il paziente roncopatico, come si di amen gergo, cioè il paziente russatore, ha una malattia di tipo ipoossigenazione del suo organismo, oppure più semplicemente se la qualità della sua vita viene a essere molto inficiata da questa sindrome del russamento e quindi ha la percezione di non aver avuto un sonno ristoratore, a risveglio, difficoltà della concentrazione, disturbi del comportamento, alcuni tipi di ansie di stato, tutti questi sintomi possono essere conseguenza di una banale, tra virgolette, una banale condizione di alterazione del sonno e quindi percezione di sonno non ristoratore, anche riduzione delle performance al risveglio, per carburare devo prendere tre caffè, prima delle dieci del mattino non mi sento in forma, mal di testa, doloretti muscolari, tutto questo sono spie da non sottovalutare per indurci a eseguire una diagnosi. Quando la diagnosi è stata posta identifichiamo generalmente alcuni siti ostruttivi che sono il palato molle, per esempio con l'ugola, che collassano, possono collassare nel corso della posizione distesa del sonno e dare origine a delle vibrazioni rumorose che sono tipicamente quelle che danno il russamento. Altro sito ostruttivo può essere la base della lingua, che anche quella ingrossata, o per l'aumento di peso o per alcune condizioni anatomiche insieme al prolasso, alla caduta del palato molle può dare origine alla pnea notturna. Naturalmente il naso la fa da padrona, un naso istruito, tutti quanti noi abbiamo avuto esperienza di dormire raffreddati più volte nella vita, il sonno è molto disturbato, il russamento è quasi la norma e non si riesce veramente a passare una nottata lontanamente normale. Quindi anche qui un naso in disordine può essere una causa di russamento. Pensiamo alle adenoidi nel bambino, ma che possono persistere anche nell'adulto. Non tutti sanno che un 15-20% degli adulti possono avere ancora le adenoidi nella porzione posteriore del naso che ostruiscono una completa ventilazione della via respiratoria. Se tutto questo avviene con una diagnosi precisa, siamo in grado di trattare con un singolo approccio tutti i sottolivelli della via respiratoria responsabili della vibrazione rumorosa, del russamento e peggio delle apnee, ripristinando una buona ventilazione, una buona ossigenazione del paziente con venir meno di tutti quei fastidiosi sintomi e miglioramento globale della qualità della vita. Sappiamo che dormire male, la sindrome delle apnee notturne del sonno, è causa del 22% degli incidenti stradali, una vera e propria emergenza che dal 2016 ha indotto il legislatore a imporre uno studio del sonno per chi voglia prendere la patente. Pensiamo all'importanza dei colpi di sonno in termini di salute sociale e di rischio collettivo ad altissimo impatto epidemiologico per chi guida di frequente, i professionisti della guida piuttosto che i trasportatori o anche semplicemente a chi viaggia con la famiglia non avendo riposato in maniera adeguata nel corso dei mesi o peggio degli anni delle sue nottate, a quale tipo di rischio veramente importante corre per se stesso e per gli altri. Tutto questo è possibile identificarlo e trattarlo abbiamo visto con metodiche molto semplici. L'importante è non sottostimare il discorso del russamento e ridurlo a una banalità, una barzelletta piuttosto che una battuta, ma un pochino come il sangue nelle urine per l'urologo piuttosto che la tosse per il broncopneumologo, interpretare questo sintomo col corretto peso che lui ha ed eseguire una diagnostica che sarà precoce e tanto più efficace quanto più precocemente instaurata, onde evitare di trovarci a chiudere la stalla che i buoi sono usciti e quindi a trattare pazienti con danni cardiovascolari già in atto, con infarti già avuti, ipertensioni misconosciute o peggio danni vascolari che poi sono difficilmente reversibili.